SIGLA 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 Salve, signor Drago. Sei piuttosto carino per essere un quadrupede. Mi piacerebbe farti visitare il nostro tempio, ma un branco di terraformisti l'ha rinchiuso nella roccia. Grazie per avermi liberato. Ci sono ancora altri satiri intrappolati nella roccia. SIGLA 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti. a tutti.